Il mio coinvolgimento nel progetto Linfa 6 è partito da fasi embrionali, quindi di definizione della parte interna della sezione del profilo, dando per assodate le dimensioni esterne e interne dei vari profili, insieme al team di ricerca e sviluppo, ho portato avanti lo studio della sezione della famiglia Linfa 6, ovviamente mantenendo gli standard di leggerezza e l'estetica tipici dei profili FARAO. Il fondo di software è all'avanguardia per il calcolo e lo studio degli elementi della famiglia Linfa 6, chiaramente l'utilizzo di questi prodotti danno un valore aggiunto notevole, sicuramente una grande affidabilità dei risultati del calcolo del profilo in alluminio.